Il sospetto è passato per la stazione di servizio, vi tendo a aggiornarvi. E non vedo più, in attesa! Centrale, veicolo individuato, sta scappando. Il sospetto ci ha colpiti di fianco. Una unità è fuori uso. Il sospetto ci ha colpiti di fianco. 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 Il sospetto ci ha colpito di fianco. Il sospetto ci ha colpito. l'ultima unità d'appoggio. Sono ancora a 3 km. Charlie 24, corro parallelamente a voi e sto cercando di superarvi. Aggiungerò l'unità in attesa più avanti. 4 Delta 23, arrivo anch'io e ho con me altre unità. Presto saremo da quelle parti. Tutte le unità impegnate nell'inseguimento, il sospetto. L'ho trovato, abbiamo un codice 3. Attenti, stai chiudando. Ho rimasto da solo, ha eliminato tutti gli altri. Mi serve aiuto. La vostra copertura è in viaggio, controllo gli altri canali. Direi che ci vorranno ancora pochi minuti. Guarda l'aria con un 10.75. iosi. 10.59 lo becco appena ce l'ho a tiro a tutte le auto veicolo individuato inviate altre unità 10.59 lo becco appena ce l'ho a tiro 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 C'è colpiti, c'è colpiti! C'è colpiti, c'è colpiti, c'è colpiti!